Allestito nella sala Rubino dal centro congressi di Marconi un evento che ci consente di conoscere meglio una delle tante ONLUS presenti nel territorio di Alcamo che è l'associazione I Girasoli ONLUS che opera nel campo dell'assistenza, del volontariato a una categoria di persone svantaggiate. Ne parliamo meglio con il presidente Gaetano Francesco Vallone, di che cosa si tratta? Voi da anni offrite assistenza organizzata e organizzate delle attività specifiche che sono rivolte a chi essenzialmente? Le attività sono rivolte a dei soggetti disagiati o comunque che hanno un disagio o delle difficoltà. Sono dei bambini che hanno bisogno di fare ipoterapia o come noi definiamo terapia a mezzo cavallo. È dal 1996 che l'associazione I Girasoli ONLUS opera in questo settore con questi progetti. Diciamo che praticamente dal 2001 è diventata una ONLUS ed è un'associazione di familiari. È un'associazione che si occupa di ipoterapia e di assistenza ai familiari del disabile. Segue dei canoni particolari perché vengono dettati dall'Associazione Nazionale di Riabilitazione Equestra, la Nire, e quindi non si lavora alla Carlona. Poi anche 19 anni di attività lo dimostrano. Quanti sono gli associati? Gli associati sono 60, i soci sono 60, una sessantina. Gli utenti quest'anno siamo riusciti a poter portare avanti il progetto per loro, sono 26. Cosa dire, oltre che siamo qua al centro Marconi questa sera, perché abbiamo dato giusto lustro a tre artisti alcamesi, che sono Coppola, Calandrino e Grimalodo, che ci hanno permesso di poter fare un calendario artistico. Quindi ci hanno dato la possibilità di utilizzare le loro opere. Ecco, ci faccia vedere, grazie, questo calendario. Il calendario è questo. Queste qua sono delle miniature, delle opere che ci hanno permesso di pubblicare. E comunque nei dettagli, ecco. È un modo per promuovere, far conoscere meglio questa realtà, insomma. Far conoscere e far parlare soprattutto. Far parlare di ciò che per tanti motivi non si parla tanto, cioè della disabilità. Far conoscere questo, questo qua. È qualcosa che entra nelle case per dire delle persone, per dire ci siamo, siamo presenti, facciamo questo. E praticamente si entra in punta di piedi e si chiede sostegno a chi può, diciamo, prendendo un calendario e potendo fare della beneficenza, che è sicuramente di aiuto a qualcun altro. E organizzate dei laboratori di pittura, ad esempio? No, no, no. La nostra attività è specifica, ed è specifica, diciamo, proprio per l'ipoterapia. Diciamo grazie a chi è invece, sa fare questo e lo fa per passione, con amore. Vedendo il padre uno si accorge di quello che è lo scorcio del nostro territorio e di come l'impressionano nelle loro tele, che è qualcosa di... di proprio un linguaggio, un linguaggio del paesaggio che è veramente da venire a visitare. Vi invito tutti a presenziare, a venire, a farci visita, a fare visita. È il giusto per rendersi proprio partecipe del bello che c'è in queste onde. Ok.